Avete presente Uncharted, Assassin's Creed, Enslaved? Ok, togliete tutta l'azione. Quello che vi rimane è Submerge, un titolo basato solo sulle arrampicate. E io che adoro le arrampicate, nei titoli sovracitati e odio il loro gameplay action, per me è una goduria. Soprattutto perché non esiste questo genere, solo le arrampicate. E voi direte, scusa ma perché? Che divertimento c'è solo in un'arrampicata? La bellezza di questo titolo risiede anche nella storia, come viene narrata. Anzi, la storia come non viene narrata. Ovvero, i personaggi non parlano mai, non c'è nessun dialogo all'interno. Quello che parleranno saranno le immagini. Inoltre, l'ambientazione fantastica è un'ambientazione post-apocalittica, stile Waterworld, infatti Submerge. Vi stiamo vivendo in un mondo sommerso. Non vi dico altro perché è da godere. Le musiche sono del grande Jeff Van Dyck. Per chi non lo sapesse, è il creatore delle prime colonne sonore di tutti i giochi Electronic Arts. Quella più famosa è quella di Need for Speed 2. Che madonna era la Need for Speed 2. Ma in questo gioco le musiche sono più che azzeccate, oniriche e fantastiche. Quindi, che cosa ho a dire di più? Abbiamo storia, gameplay e sonoro. Non vi resta che giocarlo. Grazie. 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 Grazie.